Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio di Gamecast, la nostra rubrica video dedicata ai videogiochi qui su LegaNerd. Io sono Francesco e con questo video andiamo a concludere quella che potrei chiamare come prima stagione di Gamecast, in quanto voglio parlarvi di quella che sarà la copertura che farò alle 3 di Los Angeles e dopo questo momento direi che prenderemo una pausa estiva come un po' tutti gli addetti ai lavori anche con Gamecast e ci rivedremo probabilmente a settembre con le nuove uscite, tutte le nuove informazioni per quello che riguarda il mondo dei videogiochi. Siamo che già giugno di per sé non è un mese colmo di uscite ma in questo mese in particolare abbiamo visto tanti picchiaduro, tornare al grande ritorno di Tekken con Tekken 7 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, a ridosso comunque anche dell'uscita di Injustice 2, di Street Fighter, Ultra Street Fighter 2 e The Final Challenger su Nintendo Switch e sempre su Nintendo Switch a metà mese mentre sarò lì a Los Angeles uscirà anche ARMS di cui nel pomeriggio pubblicheremo anche la recensione. A parte questa parentesi dei picchiaduro che ha animato un po' l'inizio estate, ovviamente luglio e agosto saranno dei mesi poveri in termini di uscite videoludiche, magari potreste recuperare qualche gloria del passato che non avete avuto tempo o modo o voglia di giocare negli ultimi mesi. Per quanto riguarda invece l'E3 di Los Angeles io sono carichissimo, partirò fra qualche giorno insieme ai colleghi di Multiplayer.it e faremo una copertura totale della fiera di Los Angeles che potrete seguire sia su Multiplayer ma anche su Lega Nerd in cui mi occuperò personalmente di riportarvi tutte le notizie più importanti e soprattutto gli end-on, le prove con mano che farò dei giochi che riterrò un po' più importanti e più rilevanti, magari anche dei nuovi annunci che saranno fatti in fiera e vi racconterò un po' ogni giorno con un video live in diretta da Los Angeles che ovviamente andrà in onda di notte, lo guarderete quasi tutti indifferita, di tutte quelle che sono le attività che svolgeremo nei giorni precisamente dal 12 al 15, 16 in cui saremo lì in fiera. Come sempre tutte le notizie, gli approfondimenti, video e quant'altro che saranno fatti sull'evento saranno presenti nel sito in un'app dedicato che troverete all'indirizzo leganerd.com slash E3 2017. Se aveste particolari domande, curiosità, cose che vorreste sapere sulla fiera di Los Angeles non esitate a farmelo sapere nei commenti a questo video o scrivendoci sulla nostra pagina Facebook e cercherò nei limiti del possibile di accontentarvi e di raccontarvi anche magari dei retroscena, delle curiosità, qualcosa di un po' più particolare di quella che è sicuramente la fiera più attesa dell'industria di videogiochi a livello globale. Stop, non la tiro ancora per le lunghe. Per questa puntata di Gamecast è tutto, per questo Season 1 di Gamecast è tutto, credo che probabilmente nel Season 2 cambierò i colori del gradiente per dare un po' lo stacco cromatico. Mi raccomando ricordatevi di lasciare un like a questo video se vi è piaciuto, un dislike se non vi è piaciuto, di iscrivervi al nostro canale YouTube e anche al canale di Incautoacquisto, alla pagina Facebook di lasciare sicuramente un mi piace e di seguire e di leggere il magazine. Se volete invece seguire me personalmente trovate tutti i miei contatti social a destra o a sinistra qui nel video. Quindi per adesso dall'Italia è tutto, ci vediamo nei prossimi giorni, mi raccomando seguitemi mentre sono in trasferta a Los Angeles e vi racconterò tutto il possibile dell'E3 2017. Ciao!